Svizzera e Svezia su tutti in Veneto, regione al centro del più grande evento di orientiering della storia italiana. Gli europei sprint di corsa con cartina e bussola validi anche come finali di Coppa del Mondo 2023. Nel centro storico di Verona, nella prova individuale a conquistare il titolo continentale, lo svizzero Matthias Kiburz, già campione del mondo sprint 2012 a Lausanne, e la svedese Sara Hackström. L'elvetico ha chiuso in 12 primi e 26 secondi, staccando di soli 4 secondi il leader di Coppa del Mondo, il norvegese Kasper Fosser. Terzo il finlandese Tuomas Eichila, quindicesimo e primo degli azzurri il trentino Riccardo Scaletta, 37 secondi dal vincitore. Una gara veramente particolare nel centro di Verona, bellissima dal punto di vista televisivo, spettacolare. Era forse un pelo troppo fisica per le mie caratteristiche attuali, però comunque sono contento del mio risultato, di quello di tutta la squadra. Adesso guardiamo alla sprint relay di venerdì. La sorpresa Hackström in 12 minuti e 17, superato di 8 secondi. La connazionale superfavorita Tove-Alexanderson, che resta comunque prima nella generale di Coppa del Mondo. Terza la svizzera Simona Ebersold. In finale non c'erano italiane, seconda prova degli europei al foro Boario di Soave, di scena l'adrenalinica staffetta mista al costetto del castello Scaligero.